Ciao a tutti, oggi vediamo come creare un file .txt, è veramente semplice, ci sono due modi, possiamo fare tasto destro, nuovo, documento di testo, chiamatelo come volete, chiamiamolo file .txt così, e come vedete se apro, usiamo blocco note, va bene, ho qua il mio file .txt velocemente, altrimenti, no non salvo, altrimenti potete andare qua, aprire blocco, note, scrivete quello che volete fare, Dopodiché andate qua in alto, salva, vi chiede come volete salvarlo, vedete che è già .txt, desktop e noi lo chiamiamo file .txt, anzi non metto .txt perché magari qualcuno pensa che bisogna chiamarlo per forza così, facciamo salva e vedete che qua ho il mio file di prova, se apro esattamente quello che avevo scritto, questo è quanto, se avete altre necessità particolari scrivete sotto nei commenti e alla prossima, ciao ciao!